I rifiuti elettronici rappresentano un settore strategico e di fondamentale importanza per la nostra economia. Ad esempio, su mille tonnellate di apparecchiature domestiche riciclate si possono ricavare circa 900 tonnellate di materie prime e seconde. Il comportamento di ogni singolo cittadino è il primo step essenziale per riuscire a riciclare in maniera corretta questa tipologia di rifiuti. Per migliorare e incrementare la raccolta dei RAE bisogna aumentare le iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e informazione. Grazie a un corretto riciclo dei RAE è possibile innescare un circolo virtuoso che permette di prevenire danni alla nostra salute e alla salute dell'ambiente.